Si chiamava Justin Ruskis-Damond, è una insegnante e una docente di yoga. Di soli 40 anni di età, purtroppo non c'è più, è morta. È stata fatta fuori con un colpo di pistola da Mohamed Noor, un agente di polizia di Minneapolis. La donna cercava un aiuto perché qualcuno aveva tentato di stuprarla. E quindi, però, ha chiesto aiuto al poliziotto e il poliziotto l'ha uccisa. Infatti pensate che colto alla sprovvista della donna, credendola una minaccia per lui stesso, l'uomo in maniera così brutale l'ha uccisa, l'ha freddata. Un errore vero e proprio commesso da parte dell'uomo nel buio del viaretto in cui si trovava, nella casa, la donna. Tanto che è costato il licenziamento all'uomo e la detenzione, diciamo così, reclusiva, quindi la reclusiva in carcere. Infatti l'uomo, vi ripeto, ha fatto fuori questa donna giovane di soli 40 anni di età, vittima di un tentato, stupro. Ovviamente bisognerà vederci chiaro, ma intanto vi ho raccontato in maniera anche abbastanza effettiva ed efficace quello che purtroppo è accaduto in maniera concreta e autentica. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, cari esimi utenti di YouTube. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate, Justin, Ruzicic, Damond o Damond, che tu possa riposare in pace. Amen. Grazie a tutti.